Potete pensarla come volete, essere i più feroci contestatori del Toro che fatica a risalire la classifica della Serie B, ma non potete non indignarvi davanti a un racconto come questo. Circa le ore 23 all'uscita del ristorante Riccardo Colombo e Rolando Bianchi vengono accerchiati e successivamente aggrediti con schiaffi in faccia e ripetuti calci e pugni all'autovettura da circa 25 persone con il volto coperto, cinghie in mano, costringendoli a fare retromarcia nel piazzale. A quel punto entravano all'interno del ristorante aggredendo i restanti calciatori. Negli occhi di Davide Di Michele, che ha riservato per sé il ruolo di portavoce dei compagni aggrediti, c'è il terrore. Per aver visto dei teppisti minacciare non solo degli atleti, ma anche le loro donne e quattro bambini, che chissà quando dimenticheranno quella scena. E questo è inaccettabile in un paese civile. Un professionista dello spettacolo, tali sono i calciatori, può essere fischiato, contestato, ma non minacciato. Quella è violenza pura. Non vale come attenuante neppure la voce, ancora non confermata, di una storia di scommesse che avrebbe coinvolto qualcuno dei titolari Granata. L'aggressione nel ristorante in collina era preordinata, una spedizione punitiva come si usa nella malavita, non nella tifoseria di uno dei club più prestigiosi che l'Italia abbia mai avuto. Si parla tanto anche con un eccesso di retorica di cuore toro. Quello che hanno fatto gli anonimi aggressori è solo un gesto da vigliacchi.